bello a tutti ragazzi bentornati nel canale un saluto dal vostro Ricky siamo tornati con la nostra carriera con la Sampdoria e che dire continuiamo quest'oggi abbiamo un episodio un po così che però ci porterà all'apertura del mercato di gennaio nel prossimo quindi bando alle ciance io mi sposto rimpiccolito eccoci qua rimpiccolito in modo che non vi impiccio allora dicevo che ho visto il calendario e questa puntata penso che faremo rientrare tutte le partite che vediamo qua quindi ci giochiamo sicuramente la Roma perché poi finisce dicembre quindi finisce l'anno si passa al 2022 e abbiamo un fottio di partite di cartello nel prossimo mese ma soprattutto si apre il mercato e vedremo se la società ci stanzierà dei fondi visto che siamo un po poveri ho visto poi anche ho studiato un po la la valore della rosa dei giocatori ci abbiamo il bom drums guard che vale 35 milioni e mezzo che a me a livello di gioco non è che mi fa impazzire più di tanto quindi in caso potremmo ragionare su cosa fare di lui audero pure raga è più sbocchi che altro 17 milioni e mezzo se poi riusciamo a trovare un portiere anche un po più in là con le dama che costi meno con lo stesso over secondo me potremmo guadagnare un po di euri sul mercato lasciamo i titolari quindi salernitano sampdoria che dio ce la mani buona simula partita simula veloce let's go e ce la portiamo a casa 2 a 1 gol di allora vediamo ha segnato caputo e sorbi all'ottantacinquesimo con il pareggio nel mezzo di dove sta il gol? aiuto non c'è? ah eccolo scusate a schiavone aveva segnato la salernitata era andata in vantaggio clamoroso comunque abbiamo avuto un possesso palla 55% 5 tiri 4 occasioni voi non lo vedete perché ci sono sopra io aspettate mi sposto eccoci qua mi metto un attimo qui mentre la salernitana 45% possesso palla 4 tiri 2 occasioni torniamo al mio posto no ma Bume Young 32 anni minchia Jimmy Vardy che è andato al Real vabbè sta roba la vediamo nel prossimo episodio raga o forse a fine questo vediamo come va ci abbiamo quindi la partita con la Roma allora la partita con la Roma io però voglio fare una modifica voglio spostare lui voglio metterlo più su e metterlo a S perché ci può giocare ok la formazione la conosciamo è la solida volendo raga io vorrei pure vabbè che qua Iarella boys non è che è tutto su gran che abbiamo qua in futuro quasi che vorrei metto un 4-4-2 comunque bando alle ciance come al solito andamogli a giocare sta partita Dandoria Roma giochiamo in casa amici di A-Sports c'è il nostro Pierluigi Pardo e Daniela Dani che ci trapano le orecchie di belleità da Sampdoria abbiamo lo stadio pieno quindi chiediamo di non fare brutte figure come facciamo al solito direi di saltare di volare subito al calcio d'inizio let's go si parte è partita Sampdoria Roma collino non va rotto centrale ancora Yattaren fortunato è Yattaren se allunga palla poi me ne sucio ma non è fallo ma che imbucata qui eh fortuna che non gliel'ha passata c'è più dormiente no dai non c'è credo ma che palle oh sempre gol con deviazione pigamo sempre gol con deviazione ma dai ma dai ma che sfiga è ma che sfiga è ok Roma sopra noi abbiamo fatto un tiro praticamente come ripeto ragazzi devo cambiare la formazione assolutamente ah finito così era il gol era il gol dello script solito limitante non mi veniva la parola eh vabbè allora andiamo a farfalle da tutte le parti vale e c'è il gol del cazzo di Zaniolo così e andiamo sotto daie bene bene ma non voglio vedere un cazzo guarda che palle però ma dico voglio dire almeno un tiro me lo fanno fare un tiro oh ciccio caputo 2 a 1 dai primo tiro primo gol un po' che contropiede da quelli clamorosi Ronaldo Vieira ciccio caputo sotto per Damsgaard la palla è buona Damsgaard Damsgaard riesce a sbagliare l'ennesimo gol già cazzo Roma impeccabile comunque non già fatto attaccare per niente l'unica azione poi a parte Damsgaard che non era facile tirare da lì però comunque l'ha buttata fuori da 200 metri finisce qua cadiamo di nuovo noi la fama vince una cazzo di partita non ci abbiamo un filotto di partite cioè ci sta eh perché comunque non è che siamo una squadra da titolo non siamo anche una squadra da Champions ed Europa però porca miseria zero carbonella come solito vuoi dire questa cosa? 10 red in 15 partite il miglior marcatore della serie A ma non mi dì non vedete oh grande ciccio beh almeno una magra consolazione quindi partita con l'Udinese ci abbiamo tutti belli carichi gestione squadra famo giocare sto palloso de de Silva va ok Udinese Samp che stiamo che stiamo da gioco voglio vincere per forza voglio voglio vincere una cazzo di partita oh bene neve a Udine bello bello ci mancava solo la partita con la neve per complicare cose ok si va mamma mia che atmosfera atmosfera di ghiaccio a Udine cioè con le magliette dell'Udinese che manco si vedono perché so bianchi e neri la contenzione Ghiattaren gran buco dell'Udinese Ghiattaren 1-0 nel gelo di Udine il big boy Ghiattaren gran gol e Ghiattaren signori 5 gol in 16 partite 5 gol buona una palla per Damsgaard ancora Damsgaard la mette lì per Ghiattaren secondo gol ora me la voglio tirare a sta partita pare facile in confronto alle altre è un luffeo mamma mia Audero signori Audero è uno scempio è uno scempio Audero è uno scempio Audero con questo Deoluffeo bisognerebbe andarlo a vedere secondo me potrebbe essere un bel giocatorino da prendere Torbi sarebbe Damsgaard prova il cross Bona Ghiattaren incredibile tripletta incredibile tripletta incredibile tripletta bella però gran botta ok finisce qui il primo tempo nel ghiaccio di Udine siamo 3 a 1 per Ghiattaren attenzione ragiona su Zorbi Caputo manca solo lui prova a giro Caputo incredibile ciccio Caputo il bomber della serie A oh Ramsgaard e c'è il 5 a 1 signori buchi glamorosi dell'Udinese buchi glamorosi Cerchi va il cross basso Torbi e c'è il 6 a 1 siamo tornati signori bello il cross morbido di Cerchi ah no un cross basso mazza che fortuna oh comunque Torbi un'altra un'altra semi rovesciata wow Torbi è clamoroso è clamoroso Torbi e quindi troviamo Gloria sempre fuori da da Luigi Ferraris 6 gol all'Udinese clamoroso non ce l'accherchi non è finita dentro Vieira ancora Silvestri 7 a 1 mi sembrava un po' eccessivo comunque oh Dragusin finisce qui finalmente una vittoria convincente brava squadra brava squadra Yattaren si prende la tripletta torniamo quarti vediamo un po' se però però aspettate perché il Piemonte calcio e che Juventus deve ancora giocare quindi forse siamo quinti e niente boys fatemi sapere nei commenti dei giocatori da prendere perché nel prossimo episodio si riapre il mercato quindi adesso nel prossimo io farò delle analisi prima di registrare il video se no viene una roba lunghissima comunque se avete dei suggerimenti scriveteli qua sotto nei commenti un abbraccio a tutti e noi ci vediamo con il prossimo episodio non mancate un abbraccio un abbraccio